Ciao a tutti, benvenuti a questionplay, avevo affrontato un'altra gala e ho raggiunto il Gava Cacciatore 3 e mi ero fermato qui, quindi proseguo un po di gente che mi deve parlare Prego, ditemi tutto, mi dite, soggetti è a posto D'accordo, mi faccio vedere cosa è di nuovo, è così interessante che l'entoria non abbia Che cazzo c'è di nuovo sta qua, guarda, guarda, la ringrazia ma ha fatto schifo Salve nonno, mi dica Vabbè, è chiaro, vabbè, quasi Che stronzo che è, guarda, fa un culo, vabbè, che ci vada lei allora, così la macciula Sopra bene Sì, sto cazzo Stia zitto, la ringrazio Ma va, è stata scoperta dell'acqua calda Eh già, la prima va, l'amore tigres Un bel tigres Allora Allora Pa-pam pa-pam Mh, dannaggia Allora Intanto Vado a controllare Anzi vado a segnare le emissioni dei miei ostri Allora Ok Vabbè Ecco ragazzi, per chi non sapesse la stella indica che ci sono delle possibilità di trovare più oggetti Del solito Ok Fatemi vedere voi come siete Tu torni ad estrati, tu pure Tu riposati e tu riposati E Dimenticavo Allora Tu metti Un assieme di corrispio Se lui soffre il fuoco Le parla del sepro Venito di due colama di fuoco 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 pure io Fuoco due quattro acqua 0 6 ghiaccio 0 0 drago 0 603 valore punti stato sviluppo quindi due punti su quattro non capisco questa è la cosa trasparente del fuoco scusato ho sbagliato così posso cambiare posto grazie faccio cosi si ma non sto facendo esplazzo quindi facciamo così ottimo salve signorina come già come dalle torto spezza l'attivare di t-rex andiamo a spezzare l'attivare di t-rex bene la seconda missione anche da cacciatore 3 sempre nello stesso luogo vediamo se ragazzi tante venture ci aspettano è la prima volta che incontro il t-rex nella steppa ancestrale allora t-rex è qua no è da qualche altra parte è stata buona voi up the note t-rex ma ciao e se al posto ma stai calda c'è aiuto c'è andati la regolata t-rex ma la grande anche c'è ragazzi ha problemi seri aiuto ragazzi ha problemi seri così impari fare il coglione si capote finché vuoi sai capote finché vuoi tanto non c'è al fai desaccio in armi ma faccio in armi la regolata tattata è è e che c'è stato ma porca puttana vacca so male cioè è possibile che l'erogito mi faccia male? sembra che l'abbandono se guardate questo con le miserie dove va ai tigre che sono qua eh? non so 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 è verta ma stagione ma stagione ma mania ma mania ma 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 non more ma 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 E' una malata. Wow, cavati al cazzo che sarebbe anche ora. Un maledetto schifoso. La stessa zona aveva il Gormagale. Ragazzi siete morti? Ottimo. Anzi siete svenuti. Ebbè. Paccato. Mario. Questa fai? Cutio. Un po' di niente. Un altro cazzo. Un po' di niente. Un po' di niente. non vai che insetto vai peccato quello del calcio aiuto stava ancora maledetto ma non te ne vedi va bene stavano ti raggiungo subito no dove cazzo vai adesso no dio madonna forza ragazzi saldi epici ti stai cipando eh ha 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 male ma la fa ancora ma non che si Dio ma la donna con quella torre bollia è molto grave Un'arma supera merda, guarda questo, molto male ce l'ho fatta. Un'arma supera merda, guarda questo, molto male, guarda questo, molto male, guarda questo, quindi... ... 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 I signori non sta male e non c'è nessuno che lo sa, allora io lo vedo a catturarti, intanto vado con tranquillità, perché così tu potresti fare le linee, non so se le fai, forse è meglio che aspetto, le stai facendo le linee? Forse sì, andiamo a vedere se sta facendo linee, le sta facendo, questo cazzo lo sta facendo linee? Ah merda, questo cazzo proprio, aiuto, non non devi fare linea tu, stronzo, quindi? Che pensi di fare? Dio povero, l'ho applicato in volo, non ci credo bene, non so se lui ha intenzione di andare subito, dai, guarda da su, stronzo. bene, lei, e fu così che un t-rex se ne andò a fare linee. Allora, intanto aspetto, voi rompete il cazzo, punto. è meglio che aspetto. è meglio che aspetto. io credo che se ne andò a fare linee, infatti è andò a fare linee. Voi siete sempre messi i coglioni, ovviamente. allora, io potrei provare a ripiazzarla qua. senti se guarda come cazzo la roba fa. dai, un guan. forza. ti piace la nuova trappola? a me ne piace assai. tu, 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 tu. questa cazza è andata molto molto bene. Allora, corazza, scaglia, osso, mostro più, corazza, corazza, molto misterioso, ossa media, osso più, artiglia, zanna, corazza, scaglia, zanna, corazza, corazza, allora la tua pacchina raccolta, fungo blu, l'osso mostro piccolo, l'osso mostro piccolo, l'osso mostro piccolo, l'osso mostro piccolo, vediamo un po' cos'è sta roba, va bene, 1200 primaria e secondaria, ottimo, bene ragazzi, è andata proprio molto 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 ottimo, allora vado a vedere i veri compagni, come è andata la loro missione ma va, tutto bianco, reno plus, misero, armonioso e misero ancora, ottimo, ok, allora bene, vedete voi, andiamo voi come siete messi, è tutto ma a destra, anzi non è, tutto d'usiasmo vuole che sia il massimo, bene, visto che è un po' di tempo, vado a vedere un po' di armi e armature per voi ragazzini, zanna, sei muto? Allora, con l'elemento fuoco cos'è? non è un po' di tempo, deve raccontare un po' di tempo, invece lo so forse, vi do un ... benissimo e ve ne compro due questa la vette questa la vette compro un altro questa ne ho una l'altra scatto zinogra nibbles nerf la bombi già ce la vette ok basta allora queste non ce la vette la so sempre la maschera un po' resistenza a fuoco 2 queste le vette mamma mia e non almeno zinogra non posso fare niente andiamo un po' tutto non posso fare una marza ok cucinella va bene ok perfetto dai grazie salviamo e siamo a posto ottimo ragazzi guardate il più che l'appoggio il sole che entra dalla finestra interessante questa specie di finestra bene ragazzi questo gameplay finisce qui e ci siamo al prossimo ciao a tutti